è proprio come un bimbo cerchio medianico k attraverso marco guida spirituale in genere chi muore a se stesso non è mai consapevole di tale sua immensa raggiunta realtà così come un bimbo non è consapevole di ciò che realmente è non è casuale il paragone con il bimbo perché è proprio come un bimbo chi è morto a se stesso infatti sembra incosciente sembra auto lesionista ma invece di un altro mondo e non è compreso vorrei però essere più chiaro e più preciso morire a quello che si è a se stessi vuol dire sentire gli altri non solo come se stessi ma anche dirò di più superiori a se stessi sentire che essi sono la nostra vera esistenza e che noi siamo la loro morire a se stessi non significa annichilirsi o calpestarsi significa esaltarsi negli altri significa dedicare tutta la propria vita alla causa del collettivismo alla comunione e quindi in ultima analisi dedicare la vita a dio il sentire cioè che gli altri sono la proiezione del vero se stesso del nostro maestro interiore del dio che è in noi sentire questo fa di voi dei santi fa di tutti quelli che esistono parte di quel meraviglioso plastico unitario che è dio questo meraviglioso sapere un tempo riservato a pochi ora è reso palese ora è di tutti ma non per questo è meno occulto ai superbi non per questo è meno nascosto all'egoista perché ne viene a conoscenza solo chi deve conoscerlo e lo fa proprio solo chi è giunto là dove doveva incontrare queste parole queste verità a a a a a a Grazie a tutti